Proseguono le avventure di lui iniziate nel 2021 con 22 nuovi episodi, la cui struttura rimane la stessa, cioè quella di iniziare e terminare con la stessa parola, la stessa espressione e soprattutto con la continuità di un uomo che prosegue nel percorso di conoscenza dei propri difetti, dei propri limiti e dell'accettazione di sé, sempre però in un clima di normalità. Tre anni dopo però lui è più grande? È più grande anche se non di molto, sono più grande io sicuramente, ho fatto magari più passi io rispetto a lui in termini anagrafici, però sicuramente nella scrittura si vede un lui che ha maturato quanto vissuto nei primi 22 episodi e lo porta avanti. Per un professionista, per un artista, per uno scrittore locale, quando è difficile farsi strada nel proprio territorio? Credo che nella scrittura sia un po' difficile in qualsiasi territorio, anche perché la scrittura rispetto a una forma artistica quale può essere il teatro vive di un ovunque e quindi ha bisogno di farsi spazio in territorio che non ha confini solo geografici ma di confronto con altri autori di tutto il mondo, con case editrici che producono e lavorano per tutto il mondo perché esistono ovviamente anche le traduzioni. Quindi più che la notorietà locale, indubbiamente è proprio quella di sgomitare rispetto a tanti bravissimi autori prodotti anche da case editrici non note ma che lavorano alacremente ogni anno per produrre ottimi libri. È difficile però siamo anche in un'epoca in cui la comunicazione social, se vissuta bene, se costruita in modo positivo e funzionale può dare comunque una mano in termini di visibilità, di conoscenza, anche di racconto delle trame. Basta un reel magari di un social creato bene e può arrivare lì dove non si immagina inizialmente. Una curiosità, nell'era del digitale dove il rapporto con la carta si è un po' perso, quanto è bello far conoscere ai giovani il piacere della lettura di un libro? È assolutamente fondamentale perché il contatto proprio con l'oggetto libro trasforma il modo di interpretare le parole che si hanno davanti. Leggere una storia da un telefonino, da un tablet, non ha la stessa capacità di immaginifica di un oggetto in mano con le pagine che si annusano, che si toccano. E sicuramente anche lo scrivere cambia, premesso che, almeno nel caso mio specifico, ho sempre preferito iniziare almeno le prime frasi di un racconto, sempre sulla carta. È lì che ho trovato lo spunto iniziale, salvo poi magari proseguirlo dopo questa prima scintilla sul pc, sul computer, ma il rapporto proprio con la carta sia da lettore ma anche da scrittore credo rimanga fondamentale e il punto di partenza di tutto.